Musica Nel nome del Padre, siamo capaci. Aiutaci ad afferrare la speranza, nonostante la stocchezza, mi abbandono la solitudine, prendici il braccio, quando una malattia ci abbande, quando un tradimento ci ferisce, rialzaci sempre. Buongiorno Pietro, Pietro vuole andare a scuola, è vero? Voglio andare a scuola, è vero? Sì, poi posso andarci adesso. Venerdì inizia la scuola? No! Eh no! Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, Pietro è arrabbiato perché vuole iniziare la scuola e purtroppo qui nel mio paese inizierà a venerdì. Beh, Pietro si sta arrabbiando perché non vede l'ora di iniziare questo percorso scolastico per lui nuovo perché deve iniziare la primaria e deve andare in prima elementare e non vede l'ora di andare a scuola per conoscere i nuovi insegnanti, i nuovi amici. Purtroppo qui è un caos. La scuola speriamo che riparte nel modo giusto, ma sto vedendo e ascoltando tantissime difficoltà. Beh, che dire, io spero soltanto che questa situazione si aggiusti al più presto possibile perché non se ne può più Pietro, sta molto stressato, nervoso e quindi speriamo bene, incrociamo l'inizio. Ciao! Grazie a tutti! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh L'è arrivato, come regalo da parte mia, l'album dei BTS I BTS è un gruppo del cake pop coreano E questo è l'ultimo album che hanno fatto la quarta versione Perché ci sono tante versioni di ogni album E questo è Map of the Soul 7 Quindi vi farò vedere poi la reazione di mia figlia quando arriverà e troverà il suo album Allora, Cristiana, dai, spacchetta Spacchetta, spacchetta Sì, vedi avanti, vedi avanti Però devi aprire Foto Questa sono le foto La foto di Taehyung è mia Me l'hai promessa Tu a chi vuoi, ma vai via Sarebbe V Sì, però io non vuole dire Dove sta? Ah, il mio Jungkook Eh, sta, mi tome No, no, via, è stata in gioco Sì, stiamo ci vedendo Che mamma la questione Wow, che l'hai come voleva Ma non mi ha dato questo Sarebbe, fai vedere Wow, hai fatto questo Questa è di Jimin Cioè, Yungi Yungi come bello il sugar No, questo poster Yeah, Cristiana, cosa è giorno C'è poco un calmo, non ha girovinato Non voglio, non voglio, faccio la roba Wow, guarda, c'è strano Dove era la poster? Questo è il specchio Questa mamma, me lo voglio I poster, mamma mia Ma c'è pure Jungkook Ma sono tutti Fai vedere tutti i BTS Così li facciamo conoscere Allora, il primo Alla mia sinistra J-Hope Questo è Jungkook Questo qua è Harem Questo qua è Jin Questo è Taehyung V Questo è Shuga E questo è Jimin Questi sono i nostri BTS Cristiana È arrivato il momento cruciale Eh Piano, mi raccomando, piano Bellissima Te l'apro io Dove? Però non ho capito la carta attorno Scusa, quella che ho le unghie Quando voglio ci metteranno il giorno Che cosa? Ci ho fatto graffio Non ho fatto niente Con l'unghia Non mi vedi Ti dici di essere Lo so Lo so Lo so Lo so Ma è il resto Ma è il resto di film No No Ma ti bippia Il suo primo album Di BTS È il mio C'era C'era Gira 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 Ah buono Niente di te Quelli Ops Dici Mostra un pochino Dai Gira un po' Wow I love BTS Salmone Granetti Alla pizza E qualche foglia di rucola Buon appetito Preservateci dal fuoco e dall'inferno Portate in cielo tutte le anime Specialmente le più bisognose Della tua misericordia O Mario concepita senza peccato Pregate per noi che moriamo a voi Maria Regina della Pace Prega per noi per il mondo interno San Giovanni Battista San Pio da Petrarcino E Sant'Alfonso Maria Fusco Pregate per noi Pregate per noi Pregate per noi Pregate per noi Pregate per noi